Ci siamo il giorno di Arezzo-Pisa, l'attesissimo derby del campionato di Serie C, le semifinali nazionali play-off. Queste due squadre che si giocano dunque la Serie B e ad Arezzo non si vedeva da più di dieci anni uno stadio comunale completamente esaurito. E proprio il grande afflusso dei tifosi a Maranto di Casa e dei tifosi nerazzurri pisani ha portato a prendere tutta una serie di straordinarie misure di sicurezza. Sono state prese delle misure molto stringenti, ovviamente allo stadio, con la presenza delle forze di polizia, è un numero molto cospicuo insomma. E quindi speriamo che ci sia tutte le condizioni per fare una bella partita. Si sono stati previsti la media di Tagliandi il giorno prima, entro le 19, a parte la diretta, ma poi sono stati previsti dei posti diciamo che è stata aumentata la capienza dello stadio e della curva, per la verità di tutte e due le curve, perché altrimenti bisogna essere equi. E poi le misure proprie dell'ordine pubblico durante la partita, l'entrata, insomma con le forze di polizia. Speriamo che sia una bella serata di calcio. Ah no, sicuramente quello sì, perché in effetti poi il calcio è uno spettacolo molto bello, quindi ecco speriamo che i tifosi si divertano.